un sambuceto cinico e spietato porta a casa tre punti fondamentali in chiave salvezza e rifira cinque gol ad un villa che meritava un passivo meno pesante riavolgendo i nastri vitale ancora con problemi in difesa rientra frattini mentre davanti il solito tridente rossi piccozzi d'incecco dietro tacchi ronci che lascia momentaneamente in panchina micciche spazio a bruni nel tridente con ranieri e pellecchia la prima occasione di marca villese con rossi che si presenta tu per tu con di donato ma spara su quest'ultimo all'undicesimo discesa di ranieri che arriva fino in fondo e viene steso in area per esposito di pescara e penalti che pellecchia realizza spiazzando giangiacomo e portando i suoi sullo 0-1 la reazione del villa parte con la punizione di di pentima con l'estremo ospite che devia in corner poi al ventesimo azione insistita dei biancorossi con rossi che va alla conclusione senza trovare i giri giusti al trentasesimo gran tiro a giro di dincecco illusione del gol ma pallone che termina fuori di pochissimo nel finale di tempo discesa dalla destra dell'ottimo mancini tiro a cui giangiacomo risponde come può sulla pronta risposta arriva ranieri che di testa deposita per lo 0-2 con le immagini di simone luciani il secondo tempo si apre subito con il gol locale azione insistita con rossi che crossa il centro per di giovanni che viene murato grande la successiva rovesciata di dincecco che centra la traversa poi il tocco vincente da pochi passi di di giovanni per l'1 a 2 al sedicesimo fa il suo ingresso micciche che dieci minuti più tardi prima in contropiede chiama giangiacomo alla risposta poi su un assist delizioso di ranieri con il destro batte l'ex poltore per l'1 a 3 alla mezz'ora c'è spazio per il 4 a 1 angolo dalla destra si avventa sulla sfera carrascosa che con una zampata cala il poker poco più tardi di giovanni e piccozzi provano a rendere la giornata meno amara mentre dall'altro fronte ranieri si prende lo scettro di migliore in campo rigore conquistato gol allo scadere della prima frazione e doppietta che arriva al 38esimo della ripresa quando imbeccato ottimamente da amarfisi deposita il pallone in rete per il definitivo 1 a 5 termina adunque così tre punti fondamentali per il sambuceto in chiave salvezza villa risultato troppo passivo villa 2015 sambuceto 1 a 5 ser ronci una vittoria importante giornata che partita benissimo siete riusciti a passare in vantaggio insomma nel primo tempo poi avete gestito c'è stato il ritorno del villa all'inizio del secondo tempo ma la squadra esperta e con qualità avete saputo gestire appunto le offensive del villa per poi chiudere la partita subito dopo sì ma è una partita complicata questa soprattutto dal punto di vista psicologico loro non hanno nulla da perdere quindi la squadra sbarazzina organizzata molto bene Simone Vitale è veramente bravo e quindi non era facile abbiamo fatto dopo il subito sapevo che all'inizio del secondo tempo loro sarebbero arrivati forti davanti e non andavamo a prendere quel gol perché poteva psicologicamente visto il periodo un po' condizionarci invece siamo stati bravi e poi abbiamo cambiato qualcosina anche a livello tattico e meno male è arrivato questo terzo gol che ci ha liberato un po' mentalmente sono un po' e sono contento per il fatto che questo sia il quarto risultato utile comunque che facciamo i pareggi di Pontevomano e Casalbordino sono pareggi secondo me che erano importanti Casalbordino di oggi non è quello di prima il Pontevomano oggi se non sbaglio ha vinto con l'Avezzano quindi sono due punti pesanti, dispiace per i due punti domenica scorsa con il Lanciano che avremmo meritato la vittoria e con due punti in più eravamo ancora più tranquilli però va bene così e bisogna essere un camionato importante di vincere ma è fondamentale non perdere per il momento non c'è spazio per pensare a nient'altro perché basta vedere i risultati che avvengono ogni settimana per capire che è un camionato difficilissimo quindi bisogna allontanarsi da lì sotto prima possibile cercare di avvicinarsi nelle posizioni più alte di classifica che poi vediamo che succederà è stata facendo però ripeto in questo momento dobbiamo pensare partita per partita perché ogni partita veramente è una finale ogni partita è una finale di Champions League quindi sembra per i punti no per quanto sono pesanti i punti quindi non si può pensare ad altro che all'infuori della salvezza in questo momento basta guardare la rosa del San Buceto i giocatori che sono entrati nel secondo tempo che devo dire? Devo dire che se guardi il risultato è un risultato largo che sembra che hanno dominato ma forse per 70 minuti il San Buceto non sapeva neanche come venirci a prendere questo va a merito ai ragazzi mi dispiace per il risultato perché purtroppo le cose stanno andando così però noi stiamo qui, non molliamo affinché c'è speranza noi abbiamo fiducia di andare avanti alcuni risultati sono arrivati ultimamente però abbiamo purtroppo una rosa un po' corta e quando manca qualche assenza ci sono i ragazzi che stanno dando il massimo anche loro hanno bisogno di tempo per crescere due settimane fa abbiamo giocato con 2005-2004 oggi di nuovo con 2003-2004 però questo è il nostro percorso, lo sappiamo purtroppo non c'è tempo di crescere adesso c'è bisogno di fare risultati